Innanzitutto evento imprevedibile, che sicuramente poteva essere mitigato se nel corso degli anni si fossero presi provvedimenti. Quei provvedimenti vanno ovviamente realizzati oggi. Uno era già quasi ultimato, una vasca di sondazione, di contenimento, e altre vasche lungo il corso del piume, nonché interventi strutturali lungo il fiume e anche di frequente e ordinaria manutenzione che sono necessarie per evitare le catastrofi. Noi già nell'assestamento di bilancio per l'anno 2022-2024 abbiamo stanziato 15 milioni di euro che si aggiungono ai 6,4 già stanziati per l'annualità 2021-2022. In futuro noi naturalmente chiederemo al governo un intervento massiccio per la difesa del territorio. Consiglia Rupini, danni ingenti a causa dell'alluvione del 15 settembre scorso, quali provvedimenti si possono ancora mettere in campo per aiutare le popolazioni colpite? Dobbiamo essere molto tempestivi ed efficaci nel dare ristori, soprattutto alle attività che sono state colpite, e dobbiamo pensare tutti insieme a delle nuove procedure di allerta alla popolazione in caso di calamità di questa portata per essere davvero efficaci e davvero tutelanti rispetto alla popolazione. Consiglia Ruggieri, l'alluvione che ha colpito le Marche il 15 settembre scorso, quali sono i provvedimenti che si possono ancora attuare per aiutare le popolazioni colpite? Ci sono due questioni che bisogna affrontare con assoluta celerità, quindi la liquidità per le imprese e le famiglie che hanno perso tutto, ce ne sono purtroppo tantissime e soprattutto per quei territori del nostro introterra in cui le attività già fanno fatica abitualmente a sopravvivere, in questo momento potrebbe essere l'unica soluzione per proseguire con l'ampliamento di queste attività che sono anche un presidio sociale molto importante. L'altra questione riguarda le infrastrutture, tantissime sono state danneggiate, lesionate, alcuni nostri posti turistici importanti non sono più neanche raggiungibili, quindi assolutamente serve un intervento urgente da parte del Governo. Come consigliere regionale ho la facoltà di richiedere una commissione di inchiesta, abbiamo richiesto questa commissione a tutti e 31 i consiglieri regionali, ad oggi alcuni non hanno risposto, se raggiungeremo le 11 firme potremo portare questa commissione per tutta la durata della legislatura, questa durata della legislatura garantirà a tutti i residenti, a tutte le imprese che hanno subito i danni, la certezza di un ristoro, la certezza di un concreto lavoro per verificare di chi è la responsabilità e soprattutto per avere immediatamente tutti quei danni, tutti quei ristori che hanno portato tanta fame, tanta disgrazia, hanno portato tante necessità oggi di essere aiutati. Noi concretamente l'abbiamo fatto richiedendo una commissione di inchiesta.